Aiii Quel Butterfree è in pericolo, ragazzi! Va bene ! Butterfree, scelto Deus ! Vai, Butterfree ! Attaccala con Broffica ! Sei stato grande! Quel Butterfree è di un colore diverso dal tuo. Sì, ed è molto carino. Io penso che quel Butterfree sia femmina. È vero. Già. Grazie a tutti.